Sono arrivata in Italia sei anni fa. Parlo bene? Ma sono nata e cresciuta a Diyarbakir. A 13 anni sono stata una manifestazione per i diritti del nostro popolo. Era per il diritto a parlare la nostra lingua in pubblico. È finita come finisce spesso. La polizia che spara, i gas, le fiamme, le barricate. Lì mi hanno arrestata vicino a una macchina che bruciava. A 13 anni ho passato sei mesi nelle carceri antiterrorismo turche. Il carcere mi ha resa più convinta. Ero sopravvissuta. Avevo conosciuto altre donne. A 16 anni ero invincibile ormai. Avevo i miei compagni. Cosa potevano farmi? Sparare. Sparare ancora. Sparare a pezzi del mio cuore. Grazie. Grazie.